Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e se siete nuovi sul canale vi spiego un attimino chi sono e cosa faccio. Io sono un collezionista e venditore di carte Pokémon e sul mio canale ogni settimana vi porto sempre nuovi video relativi a tutte le carte che compro, le carte che vendo e tante piccole guide e tutorial per collezionisti ed aspiranti venditori proprio come me. Oggi abbiamo due buste da aprire con, ovviamente, dei nuovi arrivi di carte Pokémon. E ci sarà praticamente tutto vintage, però di diverse annate. Qui siamo molto più sul set base, quindi roba vecchia, vecchia, vecchia. Qui invece un attimino più nuova, ma sempre che mi ricordi bene, perché oggettivamente, ragazzi, ultimamente sto proprio, sto veramente comprando molte, molte carte e vi assicuro che sta diventando difficile per me ricordarmi cosa mi sta arrivando e da dove. Però in ogni caso, appunto, faccio questi video per avere quella prima esperienza di apertura, appunto, assieme a voi. Detto questo, questa bustina mi arriva da un ragazzo che, tra l'altro, appunto, mi ha contattato su Instagram e lo sto aiutando un attimino a vendere la sua collezione sui vari gruppi Facebook e però ho scelto, appunto, di acquistare io stesso alcune delle sue carte, quelle che mi parevano un attimino più interessanti. Lui è Alessandro, che lo saluto tanto. E adesso andiamo a vedere cosa ci ha mandato. Allora, diciamo, qui... La cosa che mi ha fatto paura un attimino di questo impacchettamento è che qua si era praticamente tutto scollato perché molto probabilmente ha preso un po' d'acqua, forse. Allora, questo non so cosa dovesse servire, forse, per fare volume totale perché qua dentro, invece, dovrebbero esserci le nostre quattro carte che ho comprato che sono veramente, insomma, carte belle, belle, belle. Cerchiamo di tagliare senza spaccare niente. Nascondo... Questo lo possiamo mettere qua in fondo, questo pure. Guardiamo un attimo come si presentano. Ok. Questo di qua. Giro un attimo, non vi faccio vedere, così le vedo io. Magari ve le metto, appunto, in ordine di bellezza o comunque, insomma, in ordine di... Sì, no, no, in ordine di bellezza, dai. Allora, sono... Ognuna è inserita in una bustina, fantastico. E direi che possiamo fare così. Allora, eccoci qua. Abbiamo un Rayquaza EX in italiano. A me, ragazzi, come ben sapete, sto cercando tante carte in italiano, perché ovviamente siamo in Italia, ma su eBay ho sempre difficoltà ad acquistare carte a buon prezzo in italiano. Riesco a trovarne in inglese, riesco a trovarne in giapponese, ma purtroppo in italiano no. Quindi se vendete carte in italiano e volete, insomma, vendere la vostra collezione, ragazzi, contattatemi perché cerco a maggior ragione carte in questa lingua, appunto. Qui abbiamo un Rayquaza EX, lo guardiamo velocemente. Questa è promo, appunto. Guardiamo dietro. Abbastanza bene, giusto qualche puntino. Comunque è una carta tenuta molto molto bene. Questa è una carta promozionale che attualmente comunque non costa poi così tanto, però, insomma, Rayquaza a me piace, ovviamente, e cerco sempre di acquistare quante più carte riesco. Poi, Wigglytuff EX. Wigglytuff EX. Questa è in italiano e ha, tra l'altro, ragazzi, guardate, un holo bleed pazzesca. Non so se sia normale di queste carte, ma non credo, onestamente. Ha una bellissima holo bleed, quindi praticamente tutta la carta sostanzialmente è olografica, o perlomeno è quello che sembra. Ha una strana texture, come si dice, una strana superficie, però, però, sembra abbastanza tenuta bene. Bene, qua qualche problemino su quest'angolo. Ah, sì, ha semplicemente una superficie strana quando la vedete così. Ma comunque, tutto sommato, la carta è, diciamo, in una collezione, insomma, ci starebbe benissimo perché non ci sono pieghe vistose e grinze bruttissime. Reinseriamo subito nella bustina, nella sleeve, e procediamo con la prima bombetta. Anzi, questa non nasconde, anche se ormai mi sa che l'avete già capito, perché qua abbiamo, invece, un Mewtwo EX. Questo, sfortunatamente, in inglese, però, ragazzi, questa è, penso, la carta del set, appunto, Rubini, EX, Rubino e Zaffiro, che è la più ricercata. Credo, attualmente, che sia una carta, vediamo, insomma, in condizioni così, credo che comunque si aggiri sulla ventina di euro. Non sono ben sicuro, forse un po' di meno. Adesso devo guardare i prezzi, ma come al solito, vi saranno già apparsi perché, comunque, cerco sempre di inserirli quando edito un minimo il video, anche se non sono tutto questo gran editor. Comunque, in ogni caso, questa è una carta che ha una sua storia, insomma, perché, beh, ormai, insomma, questa è uscita nel 2003, è vecchissima, è comunque Mewtwo, quindi molto... un Pokémon decisamente ricercato, ed è... ed è comunque una EX molto, molto figa. Quindi, fantastico, mettiamoli qua, perché ora abbiamo questo Palchia. Questo Palchia è... Adesso vediamolo, vediamolo un attimo dal fuori, al di fuori della bustina, perché, tecnicamente, è una... è una... è una gran bella carta. È una gran bella carta, le condizioni, a parte veramente qualche puntino, si può dire che è pienamente una Near Mint, e... e questa carta, in particolare, è... è sicuramente, credo, una carta da potenzialmente 20-25 euro. Sfortunatamente, adesso, ho un... ho un blocco di memoria, non mi ricordo... è... forse è... Uragan... Uraganoplasma? No, Uraganoplasma è troppo... Non mi ricordo, non mi ricordo quale sia... quale sia questo set. Lo andrò subito... lo andrò subito a vedere, e magari ve lo inserisco sempre in... sempre sul video, insomma. Ma... perdonatemi, ragazzi, ma tra il... dopo il 2010, io purtroppo me le sono proprio... me le sono proprio perse tutte queste espansioni, non le conosco affatto bene. Resta il fatto che... questa carta è bella, perché presenta, come tutte le IEX, l'olografia anche sui... anche sui bordi. È tenuta benissimo, e comunque sta... è decisamente ricercata. Andiamo avanti con, adesso, il secondo pacchettino. Comunque, qui... tanta, tanta roba. Questa l'ho acquistata... queste quattro carte, devo averle acquistate? Se mi ricordo bene, insomma, intorno ai 40 euro. Non riuscirò a farci tantissimo per rivendere, perché comunque, ragazzi, bene o male, penso di aver pagato il giusto prezzo di mercato per queste quattro carte. Forse un pelletto di meno. Però, onestamente, io mi sa che queste due sono tentato di tenermele anche proprio in collezione. specialmente, magari, il palchia, perché sono proprio carte che mi piacciono. Sono proprio carte belle. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere, perché invece abbiamo qui un altro pacchettino di carte olografiche. La condizione, ve lo dico subito, non è delle migliori, però l'ho acquistato a 25 euro, e quindi, quando vedrete che qualità, che qualità sono riuscito ad ottenere per 25 euro, sicuramente, sicuramente capirete perché, insomma, l'ho fatto. Allora, pieno di top loader, il che mi piace. Ah no, sono due top loader che... Cavolo, non so come operare qui, perché qui ci sono tutte le carte. Devo fare questa cosa qua, sperando di non tagliare nulla. Mamma mia. Ecco, a me queste cose... Lo scotch direttamente vicino alle carte, senza qualcosa. Mamma mia. Dov'è che... Sì, forse è qua che è un po' più teso. Insomma, è pericolosissimo fare questa cosa qua. Ragazzi, per piacere, non fatelo, non fatelo perché... Sì, perché il rischio, il rischio è sempre dietro l'angolo, che magari qualcuno cerca di aprire, cerca di aprire le carte velocemente, e ne taglia una con le forbici. Nascondo un attimo... Eh, appunto, voi ovviamente non potete vederlo, però in questo momento io ho proprio delle carte che si sono attaccate con lo scotch. Eccomi! Allora, dopo questo... dopo questo taglio, ragazzi, voi non avete idea alla fine di che difficoltà è stato veramente liberare le carte da questa trappola, perché questi, ragazzi, è una trappola. specialmente... Va bene. Non parliamone più, non parliamone più, e cominciamo subito. Cominciamo subito. Allora, come vi ho detto, queste sono... Questo è un lottino che ho acquistato per 25 euro, e qui è stracolmo di carte... di carte rare, olografiche, e soprattutto molto, molto, molto vintage. La condizione le andremo a vedere, non del top. Allora, Mewtwo olografico... Lo tiriamo fuori giusto un attimo, però già si vedeva. Qui... Sì, questa è una carta Played, Played sporca e brutta, ma comunque sono quelle carte che io comunque mi piace avere, perché uno non sai mai chi comunque... chi comunque ha bisogno di un Mewtwo, che non vuole spendere un sacco di soldi per un Mewtwo, Nermint, e si accontenta di una carta Played. E due, perché comunque, come vi ho detto, su eBay mi piace molto anche mettere dei lotti, dei lotti in asta per, diciamo, recuperare un po' un po' di guadagno, un po' di denaro velocemente. Metto appunto questi lottini di carte Played su eBay e vendono come se fosse, come se fosse niente in asta anche per prezzi abbastanza importanti. Comunque, andiamo invece su Jungle, questo è un Nido Queen, Nido Queen, Nido Queen, è sporco, però forse, diciamo, questa sporcizia magari la si riesce a togliere. Non lo so, lo andremo a vedere, lo andrò a vedere. Condizioni, così, così, è Played, è Played, è Played la condizione, è Played. Andiamo avanti, Kingdra, un'altra carta che ormai ne sto prendendo spesso, tanti graffi, forse, delle piccole, delle piccole problematiche, però questo non è neanche messo malissimo, veloci sul Nine Tails, anche questo è, forse, sporco, sì, è sicuramente un po' sporco qui, ma forse, si riesce a togliere, le condizioni sul retro, non sono delle migliori, ma ormai abbiamo capito che è così la situazione. Alakazam, Alakazam, questa è una carta che vale i suoi soldini, qua sul retro, specialmente qua sotto, c'è decisamente un bel po' di bianco, carta ottima, lo stesso, questo è un Latias, delta specie, ma è Played completamente, è pur questo, una piega orrenda qua, piega qua, retro, ah guarda, retro fortunatamente è anche buono, ma comunque non è una carta onestamente vendibile, quindi questa la metto qua, torterra, 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 ho visto una pieghetta qua sopra, qua si sta scollando, sì, così così insomma, andiamo invece nell'era EX, perché abbiamo anche uno Shift EX che non mi ricordavo ci fosse dentro, è stata quasi una sorpresa quando li ho visti, tiriamola fuori, un secondo, allora, pieghe, pieghe, non ne vedo, retro, sì, Played, Played, quello che mi rompe è che è anche sporco, cioè, sì, a me dà quasi più fastidio il fatto che ci sia tutta questa sporcizia sotto che, piuttosto che appunto trovare, trovare delle usure, ah, qua sul, qua sull'angolo, questo non l'avevo visto, qua sull'angolo, sì, messa così così, maluccio, maluccio, andiamo invece in Unseen, beh, questo no, questo dai, comunque è vendibile, andiamo in Unseen Forces, questo è un Polirat Reverse con lo stampino e soprattutto appunto anche tutto il nome dorato e gli HP dorati, a me le Reverse piacciono tantissimo di queste appunto, di queste serie EX, questa particolarmente è molto molto bella e le condizioni non sono, forse è la carta migliore che abbiamo avuto in questo momento e guardiamo, questo, questo Olons Magneton sempre Reverse di Delta Specie è una figata, guardate, l'effetto arcobaleno dietro è bellissimo, veramente bellissimo, fantastico, questa, mi piace, mi piace proprio, andiamo sull'Apras Fossil, bello piegato, bello piegato, però almeno, dai, la condizione qui non è, non è male, non è male, qua forse si vede i problemi, Dark Wheezing, Olografico, una delle carte del Team Rocket che nessuno vuole perché mi pare fosse comunque dentro anche uno dei deck tematici e poi in ogni caso Wheezing non è sicuramente una carta che piace, diciamo, c'è il, di Team Rocket, c'è il Dark Wheezing e il Dark Arbok che onestamente non piacciono a nessuno e questa è anche tenuta abbastanza bene, è anche tenuta abbastanza bene, quindi non c'è male. ci spostiamo invece in Giappone prima che le carte che le carte che conosciamo tutti esistessero perché questo invece è uno Snorlax Cardass una piccola cosa in più che c'era all'interno di questo di questo piccolo lottino Snorlax è una carta Snorlax è un Pokémon comunque che piace e sono abbastanza sicuro che questa è comunque bello avere delle carte così particolari poi le Cardass sono bellissime perché hanno delle artwork pazzesche veramente io beh vi avevo fatto vedere forse qualche altra Cardass che mi era arrivata magari quando ne ho un attimino di più ci facciamo un video solo proprio per queste ma andiamo avanti abbiamo un Giraci questa volta questo in italiano l'unico forse dalle condizioni non sono neanche male 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 Nido King forse la assieme alla Lacazam di prima la superstar per quanto riguarda la rarità e la ma neanche la rarità perché alla fine comunque oh cavolo scusate mi sono mi erano cadute le mi era caduto il microfono detto questo sì neanche stavo dicendo neanche per la rarità bensì perché comunque è un Pokémon che per qualche strano motivo piace piace molto e quindi io ho visto questa dovrebbe anche in condizioni non perfette questa è comunque una carta che supera senza problemi in versione Unlimited i 5 6 7 euro andiamo avanti e non poteva mancare un altro Dark Wheezing Dark Wheezing questo questo dovrebbe essere dovrebbe essere olografico perché è la 14 come come questa giusto? sì è la 14 come questa solo che questo è in italiano questo invece ha proprio una sottile patina olografica ma praticamente come se fosse un olo questo purtroppo è stata fatta così in inglese peccato peccato andiamo velocemente qua abbiamo un Censi del set base 2 in condizioni abbastanza pessime in condizioni sì abbastanza pessime quindi questo lo mettiamo lo mettiamo qua e invece abbiamo un altro Latios Reverse del EX specie delta che quindi anche lui ha quell'olografia pazzesca proprio sull'artwork del pokemon stesso questo tra l'altro è in italiano cosa che mi fa molto piacere la condizione è proprio brutta la condizione è proprio brutta e andiamo poi su questo altro alakazam invece questo è oh mamma questo è legendary collection e è proprio preso male questa è un'altra carta played se non se non pur detto questo in ogni caso credo che per 25 euro di aver fatto un gran bell'affare perché comunque ci sono carte che nonostante il fatto che siano un po' messe messe male c'è sempre qualcuno che le ricerca per tappare il buco nella nella propria collezione o perché comunque non è una persona che è non è un collezionista che vuole tutto per forza mint o near mint ce ne sono tantissimi ce ne sono tantissimi tant'è che tant'è che per queste carte vintage ormai secondo me il mercato è quasi si è quasi più spostato tutto sulle good proprio perché i prezzi di alcune carte in versione near mint sono quasi proibitivi per per qualcuno insomma quindi come vi stavo dicendo secondo me le star di questo di questo di questo lottino sono sicuramente queste due le condizioni non sono delle migliori però ragazzi almeno non hanno nessun tipo di piega e quindi sono molto molto contento detto questo finalmente siamo arrivati anche a questo nuovo video dei nuovi arrivi alcune di queste carte le vedrete apparire sul mio ebay tra un po' tra qualche giorno insomma come al solito se vedete qualcosa adesso che vi interessa scrivetemi che ovviamente io aspetto sempre qualche giorno appunto proprio per darvi la possibilità di contattarmi prima che io le metta in vendita e e niente il canale sta veramente ancora crescendo molto quindi siamo diciamo abbastanza vicini ai 400 iscritti quindi mi raccomando lasciatemi un mi piace iscrivetevi se non l'avete ancora già fatto e condividete questo video con tutti i vostri amici da Make a Wish anche per questa volta è tutto e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao